Bene, grazie innanzitutto Alessandra e tutti gli altri per avermi invitata, sono molto contenta di essere qui e soprattutto di poter inserire questo evento in collaborazione con, come ho detto prima, Women Techmakers, che è questo gruppo appunto in cui ci sono vari tipi di profili più o meno tecnici, principalmente donne per aiutarci comunque ad avere più rappresentanza del mondo tech, che solitamente è più un mondo maschile, ma anche ad aiutarci a insomma condividere ciò che facciamo, condividere corsi, ovviamente è aperto a tutti, non solo a donne logicamente, però insomma è un gruppo veramente interessante. Io oggi sono qui perché ho incontrato Alessandra e gli altri all'evento scorso e stavamo parlando appunto di poter fare un evento insieme, io non sono un profilo molto tecnico, ma abbiamo pensato appunto di fare questo evento e di parlare di che cos'è la localizzazione dei videogiochi e come si usa la tecnologia in questo campo. Io lavoro per Electronic Arts, gestisco un team di Machine Translation e Translation Technology, ma oggi non sono in veste di rappresentanza Electronic Arts, ma sono in veste di esperta di localizzazione. Quindi io ho un background linguistico, ho sempre studiato lingue con una piccola parte tecnologica, quindi linguistica computazionale, localizzazione eccetera, ma non sono un ingegnere, quindi tutto ciò che ho imparato l'ho imparato grazie ad altri, sempre nel lavoro, oppure grazie semplicemente ad un interesse personale. Io lavoro in questo mondo di localizzazione di videogiochi da più di dieci anni, con oggi un focus specifico su Intelligenza Artificiale e Machine Translation, che è veramente diventata proprio la mia passione. E faccio parte di varie iniziative appunto con il pianetto Women Techmaker e Women in Game. Quello di cui vi voglio parlare oggi è il seguente, innanzitutto che cos'è la localizzazione, perché uno appena pensa a localizzazione magari pensa subito a geolocalizzazione, ma non è questo. Quali sono le tipologie di testi che di solito abbiamo, perché la localizzazione spoiler è praticamente traduzione, ma non solo, veniamo dopo. Che tipo di tool e tecnologie utilizziamo quando noi appunto abbiamo a che fare con questo, che ruolo ha l'intelligenza artificiale e che tipi di lavori ci sono in questo campo, perché ovviamente uno pensa con traduzione che siano soltanto i traduttori, punte basse, invece no, assolutamente molto più di questo. Quindi la localizzazione non è soltanto traduzione, ma è proprio adattamento di un prodotto da una cultura a un'altra. Quindi se pensate anche semplicemente a delle pubblicità, la stessa pubblicità non sarà identica in tutti i paesi, ma ogni paese ovviamente ha la sua tipologia. Quindi non soltanto traduzione di testo, ma è anche adattamento di immagini, tipologia di voce, tutto ciò che voi pensate di un prodotto. In questo caso il prodotto è il videogioco. Vi faccio vedere infatti alcuni esempi di alcune tipologie di immagini o contenuti che non potrebbero essere pubblicati in alcuni paesi se non con degli aggiustamenti. Come per esempio queste immagini in Asia, specialmente in Corea e Giappone, allusioni al nudo non sono molto consentite, ma si preferisce appunto fare questo. E questo possono essere veramente dei blocker quando si va a creare un videogioco, perché appunto possono venire bannati. Un'altra cosa è questa, che non può essere pubblicata in Giappone per la presenza di centrali nucleari. Quindi insomma, uno dice ma perché è effettivamente contenuto molto sensibile. Altri tipi di versione possono essere questi. Questo non perché non può essere pubblicato, ma perché non avrà molto successo. Un prodotto così semplice, diciamo, per una cultura occidentale, non può andare bene per una cultura orientale. Infatti è molto più carico, cosa che invece per paesi occidentali non potrebbe andare bene. Vedete quante cose ci sono nello schermo, tantissime. Per cui questo è localizzato. E infine, tutto ciò che riguarda scommesse, cose di questo genere, non può essere presentato. E anche figure femminili scoperte in questa tipologia. Ovviamente la scelta delle immagini è puramente casuale, perché io oggi non sono qui a rappresentare Iei, ma me stessa. Però, insomma, sono grandi videogiochi. Quindi, che tipologia di giochi ci sono? Innanzitutto voi siete gamer o... No, sì, più o meno. Non molto. Io molto. Ci sono diverse tipologie di giochi e si possono, diciamo, riassumere in questo. Quindi free to play, che solitamente sono RPG, gratis, con acquisti in app. PC o console AAA, quindi, insomma, titoli abbastanza grandi per console oppure PC. e mobile games, che sono, diciamo, più casual, eccetera. I free to play, come ho detto, sono principalmente MMORPG, quindi RPG multiplayer, giochi di ruolo, cose di questo genere, in cui ovviamente sono giochi enormi, che magari hanno degli aggiornamenti lunghissimi. Quindi la cosa principale lì è mantenere la coerenza con i termini. Soprattutto perché sono gratis, ma basati su acquisti in app. Quindi se sbagli il nome della cosa che ti dà l'energia, per dire, è un problema. Deve essere esattamente, cioè, tutto tradotto nel modo giusto. C'è tantissimo testo, perché ci sono tantissimi NPC, quindi giocatori, quelli che non parlano, da cui vai per le quest, eccetera, che parlano molto. Molto spesso c'è anche del voice over, non in tutti, dipende ovviamente di che tipologia di gioco è. E, come ho detto prima, appunto, la terminologia è importantissima in questi casi. E poi ci sono i AAA, che sono solitamente dei titoli molto ben curati, che devono sottostare anche a tantissime tipologie di regole. Quindi, per esempio, semplicemente il joystick della PlayStation ha una terminologia che è sempre quella, deve essere quella in tutte le lingue e addirittura, se si sbaglia anche soltanto il nome del triangolo, per dire che io non lo so, può essere bloccato. E quindi c'è il rischio di un non-release. Per cui, in questo caso, ci sono tantissimi controlli. Prima, dopo, durante la traduzione, eccetera, eccetera. Sono giochi molto grossi, in cui solitamente ci sono anche DLC, quindi aggiornamenti. E quindi, anche in questo caso, la terminologia è veramente molto importante. E devono anche essere, a volte, super corretti da diversi punti di vista. Pensate, per esempio, ad Assassin's Creed, che è il mio gioco preferito. Ne hanno fatti diversissime versioni, basati su tantissimi contesti diversi. Addirittura, questi sono anche utilizzati nelle scuole per insegnare cose ai bambini, riguardo, per esempio, le storie viching, eccetera. Quindi devono essere veramente super attuali, fanno un sacco di ricerche. Io, grande fan. E poi ci sono i mobile game, che sono solitamente casual. Quindi, insomma, Candy Crush, questi giochi di questo tipo. Ma non solo, dipende, insomma. E le limitazioni, in questo caso, sono diverse. Perché, ovviamente, il testo deve stare in un numero minimo di caratteri. Ci sono tantissime variabili. Quindi, quando c'è ciao Cristina, ovviamente, loro non sanno che io mi chiamo Cristina, che c'è la player name. Quello deve essere sempre lasciato così. Se viene sbagliato, addirittura, quando si inserisce di nuovo le stringhe nel gioco. Ovviamente, il gioco non funzionerà perché si blocca. Insomma, ci sono tantissime cose da tenere in considerazione. Quindi, non è che la gente traduce in Excel. Perché, se no, insomma, diventa complicato. E tutto ciò si aggiunge anche tutta la componente di marketing, di newsletter per i giocatori, di anche customer support per i giocatori. Insomma, c'è anche tutta questa parte che anche questa va tradotta. Quindi, insomma, è veramente un sacco di contenuto. E, a seconda del gioco, ci sono anche parti di testo dentro il gioco. Quindi, si possono suddividere in questa tipologia. Quello che noi chiamiamo on screen, quindi tutto il testo che si legge, e anche semplicemente le istruzioni. Anche questo fa parte di on screen, quindi o sono delle storie, oppure sono delle istruzioni, oppure sono schiaccia qui, insomma cose varie. I sottotitoli, quando ci sono voice over, oppure registrazioni, e l'audio, che appunto sono tutte le parti parlate, che può essere appunto o un voice over, oppure le registrazioni audio, oppure i commentatori, le registrazioni dei commentatori di famosi giochi di calcio, eccetera. Quali possono essere, e se avete delle domande, fermatemi quando volete. Cosa possono essere quindi le problematiche che un testo di un videogioco può porre? Inizialmente, innanzitutto le variabili. Quindi, come ho detto prima, tutto ciò che, i placeholder, tutto ciò che ovviamente verrà sostituito nel codice. Quindi, insomma, parti di testo, non è soltanto un testo, ma come ben sapete voi, developer, questo è. Il numero dei caratteri, ovviamente questo è importantissimo per quanto riguarda i mobile game, per quanto riguarda i sottotitoli, eccetera, eccetera. È molto importante stare in un determinato numero di caratteri, che è facilissimo magari per giapponese, cinese. Sta difficile per tedesco, per dire. Perché ovviamente, solitamente si traduce dall'inglese, e quindi in tedesco le parole sono molto più lunghe, è molto difficile adattarlo. Il sync con l'audio e i sottotitoli, questo anche è molto difficile, perché comunque, appunto, essendo molto spesso i giochi in inglese, il gioco è disegnato sul labiale dell'inglese. Oggi non più, ovviamente, perché ci sono le tecnologie che fanno sì che si possa adattare il labiale, però non è proprio super adattato. Quindi devi tradurre il gioco in modo che non si veda troppo che il personaggio parla in una lingua, invece in realtà tu ne senti un'altra. E la cosa più importante di tutti è la coerenza terminologica. Come dicevo prima, ci deve essere super coerenza per quanto riguarda la terminologia, perché ovviamente i giocatori sono persone molto esigenti, giustamente, e quindi si aspettano che i termini siano esattamente gli stessi. Quindi, per esempio, se c'è un aggiornamento in futuro dove compare una qualsiasi scena che è successa prima e il giocatore si ricorda, non puoi dare un nome diverso a quel personaggio, devi usare lo stesso nome, lo stessi nomi delle armi, eccetera. E quindi, insomma, ci sono tantissime situazioni da tenere sotto controllo quando si tratta di localizzazione dei videogiochi. Per questo motivo ci sono tantissime tecnologie e tool diversi che noi utilizziamo nel mondo della localizzazione. Il più basilare, diciamo, fondamentale che non si può vivere senza è un cut tool. sta per computer edit translation ed è semplicemente un software che aiuta a localizzare. Cosa succede? I testi di videogiochi, come ho detto prima, non sono Excel, ma possono essere diversi tipi di file. Semplicemente lo si prende dal gioco e lo si inserisce e quindi, tramite un cut tool, sono file che ovviamente una persona che non è tecnica non è in grado di aprire, non traduciamo in visual code, per esempio, ovviamente. però, grazie a un cut tool, abbiamo la possibilità di creare la situazione giusta per poter importare il file, estrarre soltanto il testo e il traduttore vedrà soltanto il testo in questo tool. Avrei potuto mettere degli esempi la prossima volta, non ci ho pensato solo adesso, effettivamente, però vabbè, fa niente. Quello che vedrà il traduttore, appunto, è semplicemente il source text, che molto spesso, la maggior parte delle volte, è in inglese, oppure può essere anche in altre lingue, e poi, semplicemente, dovrà inserire la traduzione dopo. Semplicemente non tanto, perché ovviamente molto spesso non si ha il contesto e tutto questo, quindi è molto difficile, però oggi non è il caso. Un altro strumento super utile per quanto riguarda anche il gestire tutte le traduzioni è un Translation Management System che si chiama TMS, abbreviato, e consente di non solo assegnare diversi testi di traduzione a diverse persone, perché ovviamente quando si riceve un batch di traduzioni si hanno tantissime lingue tutte insieme e non si manda a una persona sola, ma si mandano a diversi tipi di persone. Grazie a un TMS si è in grado di gestire tutte queste traduzioni e averle sott'occhio, quindi avere tutto un overview generale. TMS, invece, è un Content Management System che probabilmente conoscerete tutti, è essenzialmente il database del gioco. Quindi, la cosa che molto spesso succede in grandissime aziende è che il TMS del gioco sia collegato direttamente al TMS, che molto spesso è un cut tool, e ci si passi le traduzioni diverse, quindi la traduzione viene fatta, ritorna al TMS e il TMS lo manda direttamente nel gioco. Quindi, questo è. E poi, ovviamente, le Translation Memories, che è la cosa più importante, cioè, diciamo, dei grandissimi agglomerati delle traduzioni passate. Esattamente. Legacy delle traduzioni. Quindi, ogni volta che diversi traduttori traducono le cose, ovviamente tutto viene salvato nelle Translation Memory. Quando poi ci sono nuove richieste, come ho detto prima, a distanza di mesi, magari c'è un update con gli stessi personaggi, inserendolo nel TMS cut tool, la prima cosa da fare è una stanzione, diciamo, per raccogliere tutti i match che ci sono già. Possono essere 100%, 110%, quando anche la frase prima e la frase dopo sono uguali, ma anche 75, 80, 99, eccetera. Ci sono diverse categorie. E quindi è importante perché ovviamente il traduttore risparmia tempo e le aziende risparmiano soldi, non è talmente perché ovviamente se è già tradotto non ti paga di meno. E quindi questo è, diciamo, le basilari tecnologie che vengono utilizzate nel mondo della localizzazione. Solo traduzioni, ovviamente. Io non ho parlato adesso, per esempio, di registrazioni audio, di niente, perché questo mondo è veramente super vasto. Quindi, volendo, possiamo fare una parte due. Scherzo. Dunque, la mia cosa preferita è il ruolo dell'intelligenza artificiale nella localizzazione. Principalmente, innanzitutto, machine translation, ovviamente. Sapete benissimo che cos'è. È utilizzare l'intelligenza artificiale per tradurre contenuti da una lingua a un'altra. Quello che vedete è un neural network. La tecnologia all'inizio era statistica, poi è cambiata grazie appunto a Google Translate diventata neurale e ora, ovviamente, con le nuove tecnologie LLM, eccetera, generative AI, si può anche pensare di tradurre con questo. Anche se, comunque, machine translation è ancora migliore oggi come oggi. Con machine translation è più veloce, costa di meno, permette di tradurre anche in real time, può essere usata per user generated content, quindi chat di gioco, per esempio, cose di questo genere. È un grandissimo aiuto. Ovviamente, deve essere fatta bene. Quindi, non basta semplicemente collegare un qualsiasi sistema di machine translation, ma bisogna addestrare i motori con dati preparati in una certa maniera. Ed è molto interessante i risultati che si possono ottenere sono veramente incredibili, davvero buoni. Un'altra cosa importantissima per quanto riguarda il mondo della localizzazione è il quality estimation. Ovviamente, ci sono tantissimi passaggi per quanto riguarda il controllo della qualità. Si controlla la qualità dei traduttori, si controlla la qualità del machine translation, eccetera, si controlla la qualità di qualsiasi cosa. Ma, ogni volta che si controlla la qualità si deve sempre avere un testo di riferimento. Quindi, solitamente si ha la source language, il target prodotto da una macchina, quindi, o machine translation, o LLM, quello che si vuole, e la traduzione fatta da un umano. In questo modo si riesce a valutare la qualità. Grazie a queste tecnologie possiamo non avere il reference text e possiamo semplicemente stimare quali si possa essere la qualità. Vi ho messo alcuni esempi di alcuni utilizzati, ma ovviamente si può benissimo creare da zero e addistrarlo con diverse tipologie di dati. Per esempio, se un team ha sempre fatto diverse quality evaluation di alcuni file, eccetera, si può assolutamente prendere un transformer e addestrarlo con questi dati di modo che mi dia esattamente, non esattamente ovviamente, ma mi dia i risultati basati su effettivamente quello che controllo io, perché questi sistemi funzionano tantissimo, ma sono ovviamente molto generali, quindi magari possono funzionare su determinati tipi di testi, ma il testo dei videogiochi è veramente molto specifico. Quindi, insomma, questi sono proprio per pura curiosità, ma il consiglio è di prendere magari un modello e addestrarlo un attimo. Un'altra tecnologia importantissima superutilizzata, speech to text e text to speech, ovviamente per diverse tipologie, quindi principalmente per accessibilità, quindi persone con diversi tipi di disabilità visiva, uditiva, possono utilizzare queste tecnologie per insomma, per questo possiamo utilizzare speech to text, soprattutto text to speech nelle chat di gioco, quindi al posto di dover scrivere mentre stai giocando, semplicemente parli e questo verrà trascritto. Inizialmente non erano così buone queste tecnologie, ma adesso sono veramente ottime, specialmente speech to text. Si possono utilizzare questi tipi di tecnologie per le transcrizioni di script, per esempio, ovviamente immaginate che prima di registrare le voci tutto debba essere tradotto giustamente, no? E quindi magari arrivano delle registrazioni solo in inglese senza il copione. Bisognerebbe se non ci fossero queste tecnologie trascrivere tutto quanto e poi tradurre. Invece grazie a questo semplicemente non sarà perfetto, però meglio che trascrivere tutto, si possono creare degli script per poi tradurli automaticamente e ovviamente voice over generation direttamente dagli script che è una cosa super utile. Ovviamente generative AI e questo è un argomento veramente super interessante che si evolve continuamente ho messo tre esempi ma ce ne sono veramente un sacco ovviamente generazioni di dialoghi degli NPC addirittura in alcuni giochi come Baldur's Gate è stato fatto e è super interessante perché appunto semplicemente tu vai da un NPC dicendo qualcosa e questo personaggio ti risponde basato su quello che dici quindi questa è un'ottima applicazione generative AI quindi generare testo per un videogioco ovviamente e anche revisione adattamento di contenuto ho lasciato perdere traduzione perché ovviamente è ovvio però combinare per esempio machine translation e generative AI con posterity come lo chiamiamo noi quindi revisione del contenuto è ottimo funziona veramente bene ci sono tantissime ricerche a riguardo e quindi niente siamo quasi alla fine tutto questo per dire che appunto tutte le persone che lavorano in localizzazione non sono semplicemente traduttori ma ci sono tantissime tipi di professioni diversi che si può fare alcune delle quali sono queste i localization engineer sono importantissimi sono solitamente software developer o data scientist che non solo si occupano di evangelizzare anche un po' il mondo più linguistico ma soprattutto si occupano di creare dei tool apposta si occupano di creare CMS per esempio interni si occupano di creare CAT tool si occupano di creare i tool per automazione di determinati processi eccetera e cose di questo genere quindi sono importantissimi video audio artist logicamente quindi tutte le persone che si occupano di registrazione creazione di video montaggio creazione traduzione di contenuti e implementazione stessa cosa nell'audio quindi tutto ciò che voi udite nel gioco perfezionarlo pulirlo implementarlo eccetera eccetera data engineers ovviamente sono importantissimi perché i dati sono fondamentali quindi creazione di data lake per dire gestione anche di dati data analysts che aiutano l'interpretazione stessa di dati e interfacciarsi con diversi tipi di tool per visualizzazione di dati project manager ma quelli ci sono ovunque i designer non intendo game designer ma intendo proprio graphic designer diciamo ma specializzati in localizzazione la differenza è che magari loro hanno più esperienza anche per la parte testuale quindi quando costruiscono diciamo per dire newsletter eccetera sanno già come richiedere determinati tipi di traduzione ai traduttori eccetera e sono cose abbastanza interessanti e logicamente tester localization QA tester quindi persone che si occupano di controllare se il test sia corretto se rientra nei vari spazi se è giusto anche grammaticalmente se ha senso quello che è stato tradotto soprattutto con l'uso della tecnologia molto spesso insomma è possibile sbagliare perché come ho detto prima per tantissime tipologie di giochi anche il minimo errore potrebbe risultare in un blocco nella pubblicazione e questo potrebbe essere un grave problema e questo è quanto spero che insomma sia stato interessante so che non è stato magari super tecnico come siete abituati di solito però insomma è un mondo che secondo me è super interessante lo stesso e un pochino di tecnico c'era proprio poco grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille